Oggi è mercoledì, ci troviamo al Nuovo di Via Olimpia, allenamenti dei pulcini di Mr. Giulio Massimini. Qua c'è un'esibizione dei ragazzi della Virtus contro la Virtus Lanciano, Virtus Castelfrentano, Virtus Lanciano. Qua c'è il Mr. Nicola, sempre indaffarato. I pulcini 2008, Virtus Castelfrentano, Virtus Lanciano. Il Lanciano si riconosce con la classica divisa rosso-nera, mentre la Virtus con la divisa nero-azzurra. Qua sono i ragazzi dei pulcini di Mr. Giulio Massimini. Là in bonte ci sono i primi calci, c'è Mr. Anna Rita e il Mr. Francesco. All'altro lato c'è Mr. Gabriele con un altro gruppo di primi calci. Se notate, i lavori sul pallone iniziati da 3-4 giorni procedono di gran lena. Coperta già, già rifatta la nuova copertura, così avremo un impianto a dimensione bambino, dopo l'inutilizzo da novembre mi pare. Riprende l'agibilità di questa bella struttura, che è un vanto per la città di Castelfrentano. Stanno lavorando allegremente. C'è anche il membro dell'Ajac di Lanciano, Riccardo Nerone, là in ponto, si sta allenando anche lui. Alla prossima ripresa, buongiorno a tutti.